La recensione del numero di D-Landog di questo mese la faremo omaggiando il titolo stesso, ovvero non con fragore. E quindi tutto questo video sarà in ASMR. Siete pronti? Graucio, e dai piantala di fare il cretino, che poi c'è la gente che diventa sorda e si lamenta con me. Ti ricordo che molti mi chiamano ancora Grucio, e molte ancora non mi chiamano. Va bene, va bene. Wabalabadab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Bonelli e D-Landog. Oggi parliamo di D-Landog numero 436 serie regolare, dal titolo per l'appunto come premesso da Graucio, non con fragore. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che non fanno fragore e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero, di questo video, di come sta andando questa strada che sta prendendo, questa trilogia che è iniziata il mese scorso, che sta continuando questo mese, e che continuerà il mese prossimo e che rimescolerà le carte in tavola per far tornare D-Land ai suoi fasti più ambiti. Fatemelo sapere qui sotto, seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram, Twitch e TikTok. Questo numero, come sempre, è il soggetto del misterioso Claudio Lanzoni ed è stato sceneggiato invece da Barbara Baraglia, a differenza di quello scorso che era stato sceneggiato da Roberto Orecchioni, e i disegni sono di Sergio Gerasi che ho già apprezzato in altre storie. Mi viene sempre alla mente quella dell'old boy con le versioni umane dei personaggi di Paperone e simili. Ma devo dire che anche quando disegna gli umani che non sono paperi, Gerasi fa sempre un ottimo lavoro, un lavoro molto nervoso da leggere, ti dà proprio quella sensazione di terrore che è perfetta per D-Land Dog. Questo numero si apre come uno dei miei numeri preferiti di D-Land Dog, nonché il primo D-Land Dog che io abbia mai letto, ovvero come il numero 51, Il Male, ovvero con una coppia che sta a letto, che sta dormendo, con la moglie, o comunque la lei di questa coppia che è sul letto, terrorizzata con l'inquadratura dall'alto. Mi ha ricordato molto Il Male. Qua invece appunto non si sa bene di cosa si sta parlando. Pare che ci siano questi uomini del buio, queste ombre, questi shadow men, a quanto pare ogni cultura li chiama in un certo modo, e che sono legati alla paralisi notturna. Dopo questo preambolo, dove vediamo quest'uomo che fa uno strano sogno, uno strano incubo appunto, dove è sposato con questa donna che in realtà non è sua moglie, e la vede appunto sprofondare per mano di questi uomini ombra, per poi rimettersi a dormire, e dove noi lettori scopriamo che appunto questa donna è in realtà davvero morta ai piedi del suo letto. Non è uno spoiler, o meglio, è uno spoiler delle prime due pagine. Poi di quest'uomo non si sa più niente, ma vediamo subito Dylan Doggale prese con una cliente, che gli propone il caso di un suo amico, di un suo amico che si chiama appunto Kaplan, Jasper Kaplan. Questo Jasper Kaplan, che secondo me è il personaggio che abbiamo visto sulle prime pagine, o comunque è un personaggio che tornerà il prossimo mese nella conclusione di questa trilogia, è appunto il personaggio, il corpo senza vita, che Dylan ha trovato nello stranissimo hotel che abbiamo visto nella storia del mese scorso. Devo dire che queste due storie apparentemente non sembrano nemmeno intrecciate, sembrano due storie distinte, ma allo stesso tempo non c'è un succo, un fulcro preciso in ognuna delle due storie, e quindi è la mancanza del fulcro della singola storia, della storia mensile, che mi fa pensare che invece queste storie siano state studiate proprio per parlare di un unico argomento, e questo unico argomento, che in questi due mesi è stato solo sfiorato, verrà spiegato nel prossimo numero, almeno questa è la mia speranza, perché appunto non c'è un vero filo conduttore, se non appunto che noi sappiamo che si vuole far tornare Dylan al pre-meteora, ma non sappiamo bene cosa vuol dire, non capiamo bene questo cosa significhi. Ciononostante, Dylan comunque va ad indagare sulla scomparsa di questo Jasper Kaplan, e scopre una clinica del sonno, che appunto sta studiando queste paralisi notturne, e ci mostra appunto tutti i vari esperimenti sui pazienti che hanno problemi simili appunto a questo Jasper Kaplan, che scopriamo essere un altro ammalato, un altro soggetto affetto da questa paralisi notturna. Ora devo dire, questa storia di per sé, che mi sembra in un certo senso una storia breve, di una quarantina di pagine in cui Dylan Dog cerca di salvare queste persone, queste cavie umane, da questi esperimenti, mi è piaciuta molto, ha una sua piccola personalità. Non riesco a capire se hanno davvero messo insieme tante piccole storie per creare qualcosa di più grande, o se è tutto volutamente così spezzettato, perché poi dalla pagina 40 in poi vediamo Dylan Dog, che in un certo senso ha una specie di visione, di incubo, che cita graficamente Spazio Profondo di Roberto Recchioni, e qua uno potrebbe pensare appunto che il famoso Claudio Lanzoni fosse appunto un alter ego di Recchioni, tra l'altro Spazio Profondo che viene citato anche in un balloon all'inizio di questo numero. Ma perché citano Spazio Profondo? Perché secondo l'amica di Jasper Kaplan questi shadow men, questi uomini nell'ombra, sono associabili anche ai rapimenti alieni. Non so se si andrà a parare se questa teoria sarà appunto poi confermata nel prossimo numero, oppure se si sfrutterà il discorso alieno, e il discorso che ci sono delle cose che non stanno, non sono congrue a loro stesse in questo piano dimensionale, con il fatto che in realtà gli alieni, gli alieni che vengono citati in questo numero, non sono alieni, ma sono o altre versioni di noi stessi, oppure degli agenti, tipo Man in Black, degli agenti interdimensionali che si occupano di sistemare il multiverso, un pochino come è la TVA nella serie TV Loki, dove ci sono queste persone che tolgono le anomalie, in questo caso si occuperanno probabilmente delle tante versioni di Dilan Dog, e quindi vanno a rimuovere alcune cose, e noi li vediamo come figuri, come loschi figuri dell'ombra, come alieni, chissà, potrebbe essere questo dove verterà la trama di questa trilogia. A confermare questi miei dubbi è appunto la storia che viene trattata nella seconda parte di questo numero, per questo dico che sembra che ci siano due storie fuse in una. La seconda storia è tutta dedicata a Rania, che si sta occupando di un caso molto simile, in cui c'è questo bambino, questo piccolo bambino scomparso, che è stato dichiarato scomparso dall'asilo che frequentava, e che però, andando a visitare appunto la madre di questo bambino, pare che questo bambino non sia figlio di questa persona, non sia figlio di questa donna, insomma, questa donna non ha mai avuto questo bambino, eppure questo bambino risulta essere suo figlio, quindi mi viene proprio da pensare che questa donna, in questa realtà, non abbia mai avuto un figlio, ma che in realtà, in un'altra realtà, scusate il gioco di parole, lo abbia avuto, e che queste realtà si stiano mescolando, fino a giungere, in un'unica realtà, una specie di crisi sulle terre infinite, che va a fondere tutte le terre. Non la cito a caso, è stata citata anche dallo stesso editore, nel suo editoriale. Quindi mi viene proprio da presupporre che tutte le terre, in cui abbiamo visto Dilan Dog, che poi, francamente, nessuno si era mai posto il problema dei Dilan Dog infiniti, tranne Recchioni stesso, andranno a collimare in un unico Dilan Dog. Era solo Recchioni che diceva ogni Dilan Dog è diverso, ogni numero di Dilan Dog è un Dilan Dog di una terra differente, per spiegare tutte le incongruenze, magari grandi o piccole, che c'erano nelle storie di Dilan Dog. Ma in realtà, un lettore non ha mai concepito questo concetto, però delle cose erano innegabili, ovvero che c'è il Dilan Dog pre-meteora e il Dilan Dog post-meteora, perché sono stati fatti dei piccoli cambiamenti. Un altro fil rouge che accompagna la storia di questo mese e quella del mese scorso è questo ragazzo incappucciato, che oggi vediamo in volto, che ha un volto molto sfigurato, è come se fosse una specie di zombie o di morte, vestita in modo molto casual, molto sportivo, che appunto collega i due numeri e in questo numero fa una strage. È lui che ha rapito il bambino, è lui che sta facendo una strage di poliziotti in tavole veramente splatter, che altro motivo che mi ricordano il male di Sclavi e Brindisi. E sono molto felice che si vuole omaggiare uno dei primi cinquanti, dei primi cento, il cinquantunesimo numero di Dilan Dog in una trilogia che vuole andare proprio verso quella direzione, quindi mi piacerebbe vedere un Dilan Dog molto splatter. Se c'è un ritorno allo splatter dei primi tempi, non mi dispiacerebbe affatto. Va bene il Dilan introspettivo, ma nulla ci vieta di avere un Dilan introspettivo mentre un mostro sbudella qualche innocente. Concludo invece la mia analisi di questo numero, con l'ultima parte appunto di questo numero, che va a confermare le mie paure più oscure su quello che vogliono davvero fare con questo Dilan, ovvero arrendersi ai boomer, ai lettori di una volta, ai lettori vecchi, allo zoccolo duro che si lamentano in continuazione che Dilan non è più quello di una volta, che rivogliono Block che non è il papà di Dilan, che cazzi onestamente va bene, però chi se ne frega, che vogliono Block che non è soprintendente, ma è ispettore, che non vogliono più Carpenter perché gli sta sulle palle, non perché è nero, non perché è nero, che non vogliono più Rania perché gli sta sulle palle, ma non perché è musulmane al velo, ma perché è scritta male, cosa su cui sono anche abbastanza d'accordo, ma perché allora non iniziare a scrivere bene questi personaggi, perché ormai lo zoccolo duro li sta odiando? No, eliminiamoli. E in questo numero succede. quello che potrebbe essere, come si dice, un'operazione di epurazione di Dilan Dog per riportarlo appunto ai fasti degli anni 90, i fasti in cui le persone, i vittimisti, i baby boomer, i complottari che tanto si sentivano reglietti negli anni 90 e ora sono così tremendamente normali e non riescono ad accettare di non essere loro quelli più diversi della società e quindi si ergono a paladini della nostalgia di quanto si sentivano speciali una volta, cacciando tutto ciò che è più diverso di loro e quindi viene eliminata Rania. e era ora finalmente hanno ucciso quella marocchina che non piaceva a nessuno. Finalmente l'era del political corret è finita. ah ecco fantastico per concludere l'anno ci mancava anche l'hater hater parisi tu come ti chiami Simo Tammazzo stati zitto anche tu già c'era graucio all'inizio ci mancava pure sto imbecille sì sì è successo questo va bene hanno eliminato Rania Rania è stata uccisa e non credo proprio che sia casuale che sia stato fatto in uno di questi numeri in questa trilogia che dovrebbe appunto poi portare Dylan ai fasti di un tempo è innegabile che se lo hanno fatto qua il rischio che vogliono togliere di mezzo Rania vedrete che nel prossimo numero ammazzeranno anche il vostro tanto odiato Carpenter così sarete tutti felici e ci sarà Dylan e probabilmente ci sarà Block che strapperà le carte di adozione di Dylan Dog e non sarà più suo padre vedrete andrà così probabilmente oppure è una grande trollata di recchioni il fatto di aver ammazzato Rania in questo numero magari nel prossimo sarà Vive Vegeta che sarà meglio di me però non lo so mi sembra un po' troppo strano devo dirvi che questa scelta io non non l'ho apprezzata perché mi sembra proprio che si ceda alle lamentele di una minoranza rumorosa quando appunto si poteva risolvere scrivendo meglio Rania vi ricordo che anche Zia May dell'Uomo Ragno che per qualche ragione a molti lettori non piace nonostante sia un personaggio fondamentale per la crescita del protagonista a molti lettori non piace vi ricordo che ci hanno provato mille volte quelli della Marvel a levarla di mezzo ammazzandola e è sempre tornata il modo migliore per levare di mezzo un personaggio che non piace a molte persone non è ammazzarlo ma farlo leggermente defilare a poco a poco dalla rosa dei personaggi principali con un trasferimento con quel cazzo che volete in modo che se serve può tornare in un secondo momento come guest star dell'episodio se così vogliamo dire ma altrimenti non è presente nella serie regolare così vanno tolti di mezzo i personaggi che non piacciono non ammazzandoli insomma non vanno tolti con fragore come hanno fatto qui vanno tolti non con fragore cosa che qui non hanno fatto quindi questo numero mi è piaciuto sì non è chiaramente un numero epocale che si può leggere come come golconda ma è un numero che chiaramente è legato alla trilogia e soprattutto è legato al cambiamento editoriale che vogliono fare quindi non è un numero eccelso però le piccole storie la storia del sonno all'inizio la storia di Ragna nella seconda parte mi sono piaciute che poi stanno portando a un cambiamento mi sta piacendo non so se mi piacerà il cambiamento che faranno o meglio quello che ci sarà dopo sono abbastanza sicuro che mi piacerà ma il fatto che come si dice siano scesi a patti abbiano fatto un accordo stato mafia tra la casa editrice e i lettori che rompono le balle quella cosa mi piace un po' meno fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero delle mie opinioni sono sicuro che ho detto cose forti che ad alcuni non piaceranno scrivetemi qua sotto la vostra insultatemi insomma facciamo un po' di discussione ecco io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video al prossimo anno arrivederci vi ringrazio Grazie a tutti